salve a tutti salve a tutte eccoci qui siamo tornati nuovamente con i nostri interattivi due varianti due mazzetti vi faccio vedere le scatoline abbiamo questo mazzetto e abbiamo questo mazzetto qui di arcani maggiori vi faccio vedere il dorso delle carte cercando di non fare troppa ombra e il dorso dell'altra carta molto carine detto ciò questa sera andiamo a vedere le varianti se la persona a cui andrete a pensare o state già pensando perché comunque fa parte delle vostre preoccupazioni dei vostri ricordi dei vostri sogni e delle vostre giornate andiamo a vedere se questa persona si sente con qualcuno perché diciamo così e non nel mentre sta con me perché vorrebbe anche darsi e che questa persona voi non la sentiate o non la vediate o da tanto tempo da poco tempo oppure la persona con la quale vivete giornalmente quotidianamente costantemente assieme questo dovete deciderlo voi prima ancora di scegliere la variante contestualizzate bene dentro la vostra testa in che modo in che modo vorrete e volete interpretare le parole che ascolterete e che le carte evocheranno quindi noi però la domanda la fondiamo la basiamo solamente su questo argomento questa persona uomo donna uomo donna che sia si sta sentendo con qualcuno quindi diamo per scontato che non ci riferiamo a voi ovviamente e come abbiamo detto due varianti scegliete pure il colore io direi che si può iniziare tanto potete interrompere il video in qualsiasi momento iniziamo con la variante blu il primo mazzetto lo utilizzeremo per vedere un po come il carattere di questa persona di colui o colei a cui va il vostro pensiero e poi passeremo agli arcani maggiori per vedere se sta effettivamente sentendo qualcuno vediamo un pochino allora com'è questa persona una persona molto silenziosa una persona difficile da intendere non fa avvicinare alla sua anima molte persone e anche quelle persone in realtà non si fa avvicinare da quasi nessuno proprio fisicamente potrebbe essere anche una di quelle persone che non amano molto il contatto fisico sapete quando si parla e qualcuno vi poggia la mano sulla spalla sul braccio vabbè mai come in questo momento di distanziamento sociale queste cose non avvengono più però quando ciò poteva accadere in maniera molto tranquilla serena ecco questa persona si scansava o comunque con lo sguardo vi faceva capire che più di tanto non era lecito avvicinarsi questa persona vi ha voltato le spalle molto lentamente cioè non è che in quel giorno molto lentamente vi ha voltato le spalle ma in un lasso di tempo abbastanza lungo ha cambiato totalmente atteggiamento nei vostri confronti all'inizio questa cosa non l'avete riconosciuta subito proprio perché questa persona di suo non è molto espansiva neanche con voi si è man mano allontanata ed è stato talmente frammentato e lento questo allontanamento che ve ne siete resi conto veramente solo dopo che questa porta è stata chiusa definitivamente e per voi quel rumore reale o metaforico che dir si voglia è stato veramente un qualcosa che vi ha destato dal lungo sonno solo allora avete capito che questa persona se n'era andata realmente vediamo perché e come mai l'ultimo periodo che avete rascorso insieme e vicini è stato un periodo in cui vi siete effettivamente non dico messi l'uno contro l'altro o contro l'altra ma c'era nella coppia un clima di un po' sfiducia un po' di come dire non si riusciva più a trovare nell'altro il complice e il partner di una volta stanchezza un rapporto logorato e sempre più silenzioso ma anche voi però va detto avevate perso sia la voglia in parte di tentare di scalfire l'armatura dietro la quale questa persona si nasconde un vero e proprio guerriero nascosto dietro un abito impenetrabile l'abbiamo già detto ma di difesa questa non era una persona che ha svolto il ruolo del guerriero che va ad attaccare assolutamente è stato colui che si è sempre difeso ma il problema è che si è difeso con voi anche in un tempo di pace cioè quando effettivamente motivo per stare così in guardia nei vostri confronti non c'era e questa cosa è sempre stata presente nella vostra coppia si può dire da quando vi siete conosciuti solo che nell'ultimo periodo era rimasto solo questo non c'era più alcuno slancio silenzio totale anche voi non sapevate più non avete più saputo cosa fare e a un certo punto avete accettato semplicemente il suo comportamento pensando che si trattasse solo di un periodo un po' più stressante del solito e quindi che tutte quelle strane diciamo dinamiche che lui o lei spesso aveva messo in campo in atto nella vostra relazione si fossero semplicemente acuite acuite però per poi tornare diciamo nei ranghi vediamo un pochino no avete preso due strade diverse proprio vi siete ritrovati all'improvviso a guardare non più lo stesso orizzonte con molta tristezza nel cuore e ripeto voi nell'immediato non avete capito la portata dei suoi comportamenti cioè gli atti che lui ha messo in essere hanno effettivamente innalzato tra di voi un muro che oramai sta lì da tanto tempo quindi potremmo anche affermare per questa prima variante che questa coppia non si parla questa coppia si è lentamente allontanata e man mano che ci si allontanavano i sentimenti nella fisicità e concretamente ci si è anche allontanati a livello proprio di connessione mentale cioè non è rimasta neppure un'amicizia qui da un amore grande e molto non passionale all'inizio nel senso proprio di fuochi fiamme strapparsi i capelli però romantico sicuramente un romanticismo un po' particolare un po' crepuscolare un po' strano un po' dettato dai suoi ritmi e dai suoi gusti però c'era questo clima tra di voi dopo all'improvviso proprio due stagioni diverse l'alba e il tramonto il sole e la luna non riuscivate più ad entrare in sincronia a tornare l'uno accanto all'altro oramai si era proprio sfasato tutto vediamo un pochino vediamo se sta sentendo qualcuno in questo momento lo sta sentendo o non lo sta sentendo vediamo un po' vediamo cosa combina questa persona che all'improvviso è distante da voi anni luce io credo che effettivamente qualcuno di voi si sia reso conto della fine definitiva della storia solo quando questa persona non si è fatta più trovare a casa non ha più risposto al telefono cosa fa questa persona? allora questa persona non vi ha detto la verità questa persona ha da tanto tempo iniziato a ragionare su come fare per allontanarsi aveva già preso la sua decisione solo che non voleva assolutamente che la colpa della fine del vostro rapporto ricadesse su di lei ha atteso e forse ci sono stati anche momenti di litigio ultimamente fatemi sapere se è vero ha sempre atteso l'occasione per poter un pochino spingere voi a fare il passo più lungo della gamba mi ha messo in difficoltà ha spesso utilizzato i motivi di discussione per mettere voi in condizione di reagire in modo pessimo e poi potervi magari addebitare il suo malessere e la volontà di allontanarsi perché a fianco a voi non si poteva stare più per colpa vostra ha giocato molto con voi ed è stato molto strategico nel corso degli ultimi mesi tantissimo nel cercare di portare veramente l'acqua al suo mulino noi sapevamo già dove voleva andare a parare e ha cercato in tutti i modi di far sì che sembrasse che foste voi il motivo o la causa dell'essere approdati ad una tale condizione solo che il problema è stato che all'improvviso passava, passava, passava il tempo ma voi in questa rappola non siete mai cadute, caduti e quindi lui ha iniziato un pochino a agitarsi fino a che a un certo punto visto che tutte le occasioni perdute stavano semplicemente allungando troppo i tempi e avrebbe perso ulteriori occasioni perché qui sì ci stiamo sentendo con qualcuno la risposta è sì però vi dico anche che qui non è tanto un qualcuno a livello di relazione questo sta frequentando qualche gruppo di persone strane una persona molto strana, un gruppo molto strano o quantomeno un paio di persone molto strane che poi sono, vedi, dietro di lui, vedete quasi a suggerire, quasi a controllare quasi a mettere ansia, quasi a condizionare e niente, questa persona ha dovuto necessariamente tagliare a corto non poteva più rimanere ma è stata molto appesantita da questi ultimi mesi molto 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 una persona che è cambiata tantissimo come vedete in questa carta i capelli bianchi un po' cicciottella, un po' sgraziata non è con queste mani gonfie che sta giocando tipo di azzardo comunque quindi vittima anche di pizi e che potrebbe alzare una mano e raccogliere frutti invece sta lì a giocare per fare grana per far fruttare, non so, le sue dientrate è una persona spiata nel presente ma che magari è stata spiata anche nel passato comunque è una persona che sta facendo una vita molto 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 strana è quello che ve l'ha detto quando, è quello che vi ha detto scusatemi, quando ve l'ha detto è stato, diciamo, ragionato, pensato a tavolino prima siamo proprio a tavolino a cercare di capire quale mossa fare però voi avete indirettamente fatto saltare il banco perché più vi provocava più invece voi indirettamente l'abbiamo già detto quindi scusate la ripetizione in modo molto naturale in modo molto istintivo siete riusciti a dribblare l'attacco e ad andare avanti senza colpo ferire questa cosa lo ha fatto arrabbiare ancora di più perché non è riuscito a scaricare su di voi le colpe ed era lì a cercare come fare quale stratagemma quale strana pozione quale strano incantesimo per ottenere il mio obiettivo molto bella questa carta speranzoso che le cose andassero per come voleva lui e invece alla fine nessun incantesimo vi ha toccato perché probabilmente voi proni dinanzi a lui non siete mai stati non siete sempre state persone che hanno saputo mantenere lo sguardo alto, fiero la testa alta non l'avete mai piegato nella testa, nella schiena vi siete sempre riconosciuti una dignità e un'identità che va al di là del riconoscimento altrui che non vuole assolutamente calpestare le idee altrui ma innanzitutto ama se stessa e poi al prossimo come è giusto che sia senza eccedere troppo nell'amore per se stessi fino a farlo diventare magari narcisismo però amare se stessi apprezzare se stessi anche darsi forza quantomeno è la prima scuola della vita che la prima lezione una delle prime lezioni della scuola della vita che andrebbe scusatemi quantomeno ascoltata poi imparata e magari messa in pratica perché se non riesci ad amare te stesso e per noi stessi ma possiamo intendere proprio un bel vaso di Pandora dove dentro c'è di tutto quindi amare noi stessi sinceramente con tutti i pregi e difetti e partendo dai difetti che ne sono tanti ecco non si può amare neanche il prossimo quindi questa persona ha cercato in tutti i modi di ottenere questo risultato ricorrendo a mezzi leciti e sleali tant'è vero che la prima carta del gioco d'azzardo e la seconda delle pozioni siamo proprio al limite dell'atteggiamento molto sleale nei vostri confronti io faccio un incantesimo perché voglio un obiettivo non voglio farti capire come sono arrivata a questa cosa io faccio un trucco una malia perché ti voglio ammaliare ti voglio convincere ti voglio confondere voglio che sia tu a scegliere però a scegliere quello che dico io il gioco delle tre carte funziona proprio così siete voi a scegliere vi danno l'illusione che siate voi a scegliere poi alla fine vi ha portato con lo sguardo con le mani con le parole con i ritmi a scegliere quello che loro avevano già deciso questo ha fatto questa persona sta sentendo qualcun altro e direi proprio che sì carta bellissima di per sé ma ovviamente per molti di voi non rappresenterà certo una consapevolezza piacevole però sicuramente avete già i vostri indizi stiamo sentendo qualcun altro da molto tempo il problema grande è è che anche a questa persona probabilmente non abbiamo detto la verità questa persona non sapeva neanche di voi abbiamo semplicemente rischiato di far saltare tutti i due rapporti per cercare di tenerne almeno uno abbiamo scelto l'altra persona con voi dovevano comunque alleggerirsi il senso di colpa lo dovevano far sparire dovevano alleggerirsi nella coscienza qualcuno di questi uomini o donne proprio gli uomini perché le donne lo saprebbero che si è allontanato evidentemente ha messo anche incinta l'altra donna perché c'è proprio la carta della fertilità e questo discorso di vita e morte e questo abbracciare comunque le conseguenze di un'azione di un qualcosa fatto in due quindi ragazze per quanto riguarda la prima variante sì questa persona sta frequentando proprio ma frequentava e sentiva quando ancora stava con voi quando ha iniziato a farlo da quello che si può così dedurre e dall'atteggiamento che questo uomo dovrebbe aver avuto non è nata come storia da far durare né come un qualcosa tale da far saltare il rapporto con voi la cosa è degenerata deve essere accaduto qualche cosa per cui non è stato possibile più tornare indietro è sicuramente molto preso da questa donna e da questa situazione ma non è del tutto convinto e poi non si sa se effettivamente riuscirà a prendere sulle proprie spalle queste responsabilità lui che ancora prima di prendere le responsabilità si appoggia alle spalle altrui lui che non si mostra del tutto guardate questa donna è nuda e ha dinanzi a sé il teschio ragiona sulla vita appunto la morte dentro di sé c'è la vita nelle sue mani c'è la morte quindi il ciclo totale delle nostre metamorfosi lui in realtà è nudo solo giù la parte che ha utilizzato per dare un suo contributo poi per il resto è comunque coperto quindi non si mostra totalmente non mostra il cuore non mostra la pancia gli organi la parte fondamentale dove ci sono tutte le passioni alle ali e quindi anche una sorta di è una sorta di premonizione del suo possibile scrollarsi di dosso la responsabilità alleggerirsi allontanarsi in questo momento sta vivendo una sorta di primavera però chi lo sa se arriverà a raccoglierne i frutti o se perché poi guardate qui perdonatemi è come se lui stesse cercando di esorcizzare anche proprio questo il fatto di dover raccogliere i frutti sono lì su basterebbe allungare la mano l'abbiamo detto prima e invece no si fa altro non lo so questo personaggio sta vivendo una situazione così un po' bizzarra la domanda che avete fatto era centrata semplicemente sul sapere se questa persona stava sentendo qualcuno magari vorrebbe essere interessante capire come andrà a finire però magari ne faccio un altro interattivo ora passiamo alla seconda variante bene passiamo ora all'altra variante la numero 2 o la variante possiamo dire viola vediamo un pochino come andranno le cose con chi abbiamo a che fare com'è questa persona che carattere ha in che situazione ci troviamo vediamo un pochino allora questa persona allora allora è una persona che si osserva molto intorno si guarda intorno osserva e prima di agire fa passare molto tempo cioè solamente quando è realmente convinto di voler fare qualcosa più che fare di voler ottenere perché questa non è una persona che fa tenta e poi vedremo come andrà ma è una persona che dice io questa cosa la voglio solo se la voglio mi informo se ne vale la pena se ne vale la pena agisco altrimenti avrò altre possibilità comunque questa persona ce l'ha un po' nell'indole il fatto di essere non dico un don Giovanni però un po' un donnaiolo e va sempre a donne a donne sono amare va sempre incontro a donne perché sembra un po' che va sulla tangenziale magari non è un lapsus ma la realtà è anche questa cioè quest'uomo questa donna che dir si voglia va sempre incontro a persone che si trovano in un particolare momento di difficoltà di tristezza molto giù di morale è come se scendesse delle vittime predestinate perché predestinate perché rispondono a una sorta di identikit che quadra con il suo carattere che lo lascia nella condizione di dominare la situazione tanto è vero che lui da dietro quindi lì dove la persona che verrà poi conquistata catturata ammaliata non può difendersi e non può vedere lui già da prima e da dietro dove per dietro intendiamo dietro in senso temporale sia in senso spaziale questa persona ha già visto questa persona ha già lasciato passare il tempo ha già deciso ha già pensato ha già valutato poi all'improvviso arriva e appare nella vostra esistenza come una sorta di angelo custode una persona di cui fidarsi ciechamente perché voglio dire una persona che non è una divisa divisa sempre in senso metaforico cioè una persona di cui si può avere solo che fiducia perché ci viene a difendere a proteggere ecco lui entra così nella vita delle sue prede delle sue vittime dopodiché una volta che si è stabilito il ruolo il suo ruolo diciamo che ha una sorta di posizione più alta rispetto alla vittima proprio perché è colui che la può difendere la può aiutare a rialzarsi a tirarsi su e a tirarsi su di morale ecco una volta che è stato stabilito il piedistallo e chi sta su chi sta giù poi è difficile uscirne tratti di narcisismo qui abbiamo anche patologie ben peggiori però ovviamente sappiate sempre ripeto contestualizzare e tenere presente com'è la vostra di situazione non è che tutti hanno queste patologie estreme altri sono semplicemente un po' così dei farfalloni però più o meno la strategia di fondo è quella è una persona molto interessante un bello sguardo una persona che ci sa fare che cura molto l'apparenza sua e che cura molto il contesto quindi prepara un pochino come un ragno una sorta di tela nella quale vi va a catturare anzi non vi cattura lascia che siate voi ad andare ad impigliarvi nella sua tela anche perché se ciò accade siete voi che avete invaso il suo spazio vitale lui vi accoglie voi siete comunque intorto come se steste entrando nella casa di qualcun altro vi trova lì vi dovete addirittura giustificare mentre voi non avete ancora capito come è accaduto questo inconveniente di rimanere ingarbugliati bloccati catturati da una tela che non siete stati in grado di vedere scusatemi ma ho sentito un urlo terribile da fuori il balcone quindi persona che studia molto le situazioni che non fa mai un'azione a caso strategico nel senso militare un piano d'azione si studia il nemico tra virgolette si studia il territorio si cerca di colpirlo alle spalle come abbiamo visto in questa carta all'improvviso non si va impreparati si va belli che tutti diciamo berdati con le nostre armi con la nostra bella divisa pronti ad affrontare qualsiasi reazione bene vediamo un pochino se questa persona e fatemi sapere se poi effettivamente corrisponde a questa descrizione questo tipo un po' così proprio un conquistatore sediale vediamo un po' e questo potrebbe essere anche un individuo donna uomo che va a caccia di persone contemporaneamente cioè qui potremmo avere anche più storie contemporaneamente nel passato possono esserci state vediamo se ora sta sentendo anche qualcuno cosa fa? che ve lo dico a fare bellissima la carta ma sta andando proprio vedete a pesca pesca grossa cioè al di là della sensualità della carta del gesto delle muoveme potenze l'abbondanza il liquido la pienezza il restare senza respiro l'affanno e ripeto la sensualità della carta lui entra nella vostra vita e nella vita degli altri così e il bello guardate quanto è furbo lui va con le sue belle anfore vuote ma nuotando in questo mare che poi in fondo è il vostro contesto la vostra vita quindi lui si fa raccontare della vostra vita prima di farvi capire che interessate ecco che fa attinge a piene mani lui che fa vi fa le domande vi conosce vi avvicina cerca di sedurvi nel frattempo voi che siete magari giù di morale disperate dite tante cose non vi rendete neanche conto di aver detto così tanto lui capta tutto registra tutto e riempie la sua valigetta di tutti questi strumenti che poi vi ritorcerà contro perché li utilizzerà al momento giusto per controllarvi farvi venire un eventuale senso di colpa e tenervi imprigionati a lui o a lei sta sentendo qualcuno sta andando a caccia ce l'abbiamo detto lui ha già nella sua testa tutto il piano cioè guardate veramente come questa carta fa pensare a parte il fatto che richiami il matto dei tarocchi però sembra quasi un cacciatore appostato nell'acquitrino che attende la sua preda e che fa anche finta di niente fa il finto tonto il matto del paese ha il tonto del paese il tontolone la persona che sembra così leggera di cui non si giudicano gli atti neanche quelli un po' più strani perché dice quello è così no quello non è così lui ha proprio studiato per essere così cioè lui è proprio vedete organizzato bene non gli manca niente ha la pazienza di attendere tanto e ha anche come dire la superbia di gonfiarsi e farsi più grande forte intelligente astuto di quello che poi effettivamente ha e poi vi mostra la faccia tontolona e dietro a un coltello un pugnale un'arma con la quale è pronto a colpirne le spalle un uomo piccolo meschino si nasconde dietro questo ragazzone che sembra attirare tanto le carezze le attenzioni magari non proprio questo della carta però in generale questa persona sembra attirare tanto la cura di quelle donne che hanno comunque un istinto materno molto 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 sviluppato quindi state attenti e state attente che si tratti di un uomo o di una donna qui si deve andare oltre l'apparenza ma molto oltre l'apparenza perché vedete cosa accadrà voi vi fiderete e vi avvicinerete all'improvviso vi ritroverete così catturati all'improvviso non ve lo scollate più di rosso diventa il vostro tormento all'improvviso si mostra lo spiritello fastidioso e come dire il tafano l'accento è giusto credo non vorrei dire una stupiraggine il tafano antipatico che sta lì e che vi dà rogna ma proprio rogna 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 e hai voglia saltare con questo non voluto cavaliere sulle spalle questo sgradito ometto tutta la sua statura quella reale molto piccola perché la sua statura reale corrisponde a quella morale vedere come si ristabiliscono i rapporti voi che vi siete fidati voi che vi siete avvicinati che lui ha fatto avvicinare dissimulando totalmente le proprie intenzioni un po' come fanno quegli animali che devono catturare le prede e fanno finta di essere morti si camuffano nel contesto anche lui questo ha fatto quindi qui non sta sentendo probabilmente ancora nello specifico una persona ma ha già creato la trappola per catturare questa persona questa persona ci si ritroverà per sbaglio e non è sicuramente una condizione auspicabile quindi quando inizierà anche questa storia questa situazione in realtà la persona con la quale inizierà a frequentarsi fin dall'inizio cercherà di scappare ma non ci riuscirà questo ve lo dico perché se state aspettando che lui lei torni sappiate che innanzitutto state diciamo senza giudicare ovviamente i vostri sentimenti state recuperando un po' di libertà godetevi questo momento perché tanto lui torna a controllare proprio le sue cose la sua roba i suoi possedimenti ma lui sta comunque rendendo la vita impossibile ad altre povere vittime perché se questa è una persona poco poco narcisista qui abbiamo quello proprio che ti stalkerà quindi non so fatemi sapere questa sera sono venute due varianti molto particolari ma molto pesanti per alcuni aspetti fatemi sapere se risuonano con la vostra realtà io vi ringrazio vi mando un bacio e magari poi facciamo l'approfondimento su come andrà questo sentirsi tra lui lei e l'altra o l'altro un bacio grande